Pasqua, stiamo arrivando, ma prima di caricare a Mamma Gna, conosco un posto qua vicino. Vengo proprio a pedito. Pasqua, ti faccio mangiare qualcosa di speciale, certe costolette d'agnello, qui le fanno col formaggio asiago d'occo. Ti è piaciuto, eh? E mo' chiamo Filomena Napoli e dico che abbiamo caricato le mille forme di asiago. E che dico che sei proprio buono. Asiago Doc, fresco e stagionato, piace sulle tavole di tutta Italia.